Abbiamo passato insieme un anno straordinario di sport, di emozioni, di passione, di divertimento, di grandi eventi. Una comunità di giovani in movimento insieme con Kinder più Sport. La prima edizione dei giochi olimpici giovanili invernali a Innsbruck ha inaugurato il 2012 con un grande successo che guarda al futuro. Protagonisti, oltre 1058 atleti tra i 14 e i 18 anni, provenienti da più di 60 diversi paesi. Kinder più Sport, insieme al CONI, ha accompagnato la squadra azzurra in questo nuovo grande evento. 41 gli azzurri in gara, 21 ragazze e 20 ragazzi, con un bottino di 5 medaglie d'oro, 2 argenti e un bronzo. Kinder più Sport, con l'ISF, ha portato in Italia due campionati mondiali studenteschi, a cui hanno partecipato 10.000 giovani da tutto il mondo. Un'occasione unica per condividere insieme i valori dello sport. 5 e 10 marzo, Gressonei. I mondiali studenteschi di sci, nati nel 1973, quest'inverno sono andati in scena sulle nevi valdostane, con la partecipazione di 19 squadre nazionali. Un grande spettacolo sia nello sci alpino che nello sci nord. 31 marzo, 8 aprile, Cagliari. I campionati mondiali studenteschi di tennis da tavolo si sono svolti nel capoluogo Sardo, coinvolgendo oltre 400 atleti da 20 paesi di tre differenti continenti, con la partecipazione del campione Salvatore Cacci. Kinder più sport in questo eccezionale anno sportivo ha coinvolto complessivamente 1.385.100 ragazzi di età tra i 6 e i 18 anni attraverso la promozione giovanile dello sport, le attività agonistiche e i campi estivi. L'attività agonistica giovanile ha avuto nel 2012 un aumento della partecipazione davvero eccezionale. Oltre il 28% di ragazzi in più, per un totale di 206.000 atleti, tra basket, volley, scherma, atletica, tennis, vela, golf e giochi della gioventù. Le Kinder Iadi, trofeo delle regioni di volley, hanno visto 30.000 pallavolisti sfidarsi su tutti i campi italiani, dalle fasi provinciali fino alle finali di Cesenatico e Ava. Il torneo Indoor e Beach rappresenta la più importante manifestazione del volley giovanile in Italia, organizzato direttamente dalla FIPAB, in collaborazione con Kinder più Sport. 457.000 ragazzi sono scesi sul campo di volley nell'attività di promozione dello sport e delle attività motorie, organizzate per la scuola primaria e secondaria. Un circuito strutturato in nove tappe ha portato in pedana i giovani schermitori Under 14 che hanno tirato nelle tre specialità Chioretto, Spada e Sciabola. Gli Under 21 hanno combattuto nel campionato di scherma giovani e cadetti. Complessivamente oltre 30.000 atleti hanno gareggiato nello sport che a ogni Olimpiade ci regala tante medaglie e soddisfazioni. 15.600 partecipanti hanno animato il progetto A Scuola di Scherma, supportati da istituti scolastici e società sportive. L'Atletica ha vissuto i momenti più intensi con i giochi sportivi studenteschi svoltesi in tutta Italia. La Kinder più Sport Cup, la più grande manifestazione di atletica leggera, culla dei talenti del futuro e con i campionati italiani juniores a Misano, con le promesse Under 22, in totale 24.500 atleti. Da Aosta a Catania, per un totale di 50 città, 25.000 giovani tra i 9 e i 16 anni e un master conclusivo a Palermo. Questi i numeri del trofeo di tennis Kinder più Sport, una grande occasione per diffondere ancora di più questo sport che ha nella sportività agonistica e nel fair play due importanti fondamenti. 58.000 ragazzi hanno animato gli appuntamenti del basket. Join the Game, il primo campionato nazionale di basket 3 contro 3, riservato alle categorie Under 13 e Under 14. Ragazze e ragazzi che si sono contesi il tricolore, sfidandosi attraverso i campi di tutta Italia in tre fasi. La scuola della società Schio Basket, una delle grandi realtà della pallacanestro femminile italiana, nei quali si ritrovano gli stessi valori di Kinder più Sport. diffondere la passione per la vela tra i giovani è un altro degli obiettivi raggiunti, sostenendo e sponsorizzando il trofeo Optimis Kinder più Sport con cinque regate svoltesi a Serbia, Senigallia, Trieste, Formia e sul Lago di Garda presso Arco di Trento. A questo si aggiunge la Lake Garda Meeting, sempre per la classe Optimist, la deriva più adatta per iniziare l'avventura velistica. Complessivamente 10.000 giovani hanno partecipato a queste manifestazioni. 2.500 partecipanti hanno percorso i green del Kinder Golf Trophy. Kinder più Sport nel 2012 ha organizzato 80 giornate in cui i giovani atleti potessero incontrare sui campi di gioco i grandi campioni di ciascun sport. Lo sport e l'estate vivono un momento d'incontro nei campi estivi, alcuni dedicati a un singolo sport, altri cosiddetti multi-sport, con la possibilità di mettersi in gioco in più discipline. Quest'anno hanno partecipato complessivamente 57.000 ragazzi, con un incremento del 10% sulla precedente stagione. Kinder più Sport 2012. Un anno vissuto appassionatamente.